Massimo Orlando, ciao Massimo ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti ben trovato Arturo di Napoli, ciao Arturo, ben trovato ciao Marco, ciao Stefano, ciao ciao Re Artù e mi fa anche piacere trovare Fabio Santini ciao Fabio, ben trovato buon pomeriggio, ben ritrovati ragazzi Fabio Santini che succede Fabio? ti chiamiamo in una giornata dopo il post derby questo post derby allora che dici? mai così in difficoltà all'Inter brava lì, ho un po' fermo, mi ricordo da ragazzo contro Mervyn Agler aveva resistito 15-12 riprese un po' resistito dopo ma poi secondo me ci ha messo del suo anche Simone, perché possiamo non mai visto l'Inter così, mai ci ha messo un po' del suo, Fabio vuoi aprire le danze? sì, qua io mi ero fatto tre domande casa Milan e una domanda casa Inter, venerdì le tre domande Milan era visto che venerdì mattina Ibra ha fatto il discorso motivazionale alla squadra vediamo chissà che avrà detto io faccio venire qua Leoni 2 Fonseca è da mandar via 3 Teo funziona e Leao sono i due leader allora a tutte e tre le domande ci sono tre risposte precise Ibra è un grande motivatore Fonseca non è da mandar via Teo Hernandez ha fatto una partita tattica intelligente Leao un giocatore che gioca così è meglio perderlo che trovarlo e l'Inter e l'Inter? Beh l'Inter il signore Inzaghi è guarito dalla malattia dello sbagliare i cambi? No non è guarito ma però dare la colpa a Inzaghi e basta sarebbe un errore grossolano c'è una società che compra solo a parametro zero oppure giocatori che non sono ancora da interve di Palacios e c'è forse una certa condizione di pancia piena che è inevitabile pensate che addirittura Lautaro è stato costretto a tornare prima dal suo periodo di vacanza estiva è chiaro che ha fatto una preparazione che lo sta portando a non essere quello che tutti noi conosciamo detto questo non si va a togliere i tre titolari di centrocampo e regalare al Milan quella fascia che storicamente è la fascia migliore dell'Inter così è stato fatto lo stesso errore del derby del 2022 che di fatto schiuse la strada allo scudetto del Milan di Pioli ecco queste sono le risposte che il derby ci ha dato allora sentiamo un attimo abbiamo aperto un dibattito però c'è una notizia che devo dare immediatamente è una news perché i Fritkin hanno chiuso l'operazione per l'acquisto dell'Everton è fatta quindi prima ne abbiamo parlato un po' abbiamo toccato questo tema Bloomberg esatto hanno lo stadio nuovo hanno lo stadio nuovo di 53 mila posti lieti di diventare i custodi di questo iconico club le prime parole questi non parlano mai però hanno parlato adesso giustamente ha comunicato ho capito ce l'hanno comunicato è comunicato bene dopo magari vi chiederò se potrà cambiare qualcosa però rimango un attimo sull'Inter perché Santini ha toccato dei temi importanti la diciamo così la stoccata a Inzaghi è arrivata sui due centrocampisti tolti ha svuotato un po' il centrocampo questo allora Massimo Orlando mai così in difficoltà l'Inter i numeri sono dei numeri sette punti meno rispetto allo scorso anno sì allora intanto che succede? fare complimenti al Milan perché dobbiamo assolutamente dobbiamo fare complimenti al Milan perché vero vero Massimo è stato la partita come doveva e a Fonseca e a Paulino Fonseca che ha avuto il coraggio di cambiare praticamente io se vi ricordate ho sempre detto il Milan con 4-2-3-1 non poteva funzionare ieri ha cambiato sinceramente si è visto un altro un altro Milan detto questo io credo che sia abbastanza normale che nella testa dei giocatori dopo sei derby vinti ci sia la presunzione io non penso che abbiano sottovalutato però ti senti più forte e dunque dai qualcosina in meno ricordiamoci il grano scorso l'Inter ha puntato ma fin dal primo giorno lo ha dichiarato che puntava alla seconda stella quasi disinteressandosi della Champions League infatti faceva turn over in Champions League e quest'anno l'Inter compete su tutte le competizioni come è giusto che sia non ne farei un dramma Simone Inzaghi ha sbagliato qualcosa sui campi sono d'accordo però ecco ha trovato un grande Milan a un certo punto Milan ha meritato ma l'Inter poteva anche vincere la partita perché è stata una partita bella, aperta dove le squadre a un certo punto erano lunghe c'era una parte dall'altra e secondo me ci sono tornati alla normalità cioè un campionato difficile quello italiano sono contento perché l'Inter non potrà scappare e dominare come la passata stagione e ci saranno molte più squadre che giocheranno per il titolo sì è vero sono d'accordo sono d'accordo anche io ma io questa cosa l'avevo detto dall'inizio la fuga non ci sarebbe stata quest'anno perché poi secondo me questa Champions toglierà qualcosa inevitabilmente e attenzione all'Aquila oppure all'Avoltoio c'è un nome e cognome Antonio Conte quindi attenzione a lui lui sta lì la Tigre la Tigre sta lì pronta per dare il graffio allora Di Napoli tuo pensiero sull'Inter questa Inter in difficoltà ma guarda è vero non ho mai visto un Inter così in difficoltà ma credo che sia nell'approccio perché poi una piccola reazione alla passata non ne farei un dramma perché comunque il Milan abbiamo poi un derby doveva vincere beh certo ci va a leggere i grandi numeri prima o poi doveva avvenire ecco bisogna dare atto che Consec ha preparato la partita in una maniera eccellente l'ha detto anche durante l'intervista che ha visto i suoi giocatori con gli occhi della Tigre visto che avete usato questo termine però non ne farei un dramma l'Inter rimane per me la squadra da battere è chiaro che gli impegni di Champions è chiaro che la partenza non fantastica come l'anno scorso certo magari qualche dubbio lo mette però io credo che sia una questione di approccio ho visto semplicemente il Milan più aggurito rispetto a quelli dell'Inter e credo che questo poi in Serie A non te lo puoi permettere neanche con le squadre di bassa classifica figuriamoci contro il Milan quindi l'Inter ha pagato d'altro poi la reazione c'è stata le occasioni le avute però è chiaro che il Milan si è provato a casa una vittoria e l'ha fatta anche meritatamente però per quanto riguarda l'Inter non ne farei un dramma messaggi al volo c'è anche un audio dice più che pancia piena mi sembra una situazione di tasche vuote senza un vero mercato ti può andare bene un anno o due ma poi anche una grande dirigente come Marotta non può sopperire la mancanza di investimenti buongiorno ragazzi allora fino a domenica pomeriggio sembrava una partita segnata adesso per l'Inter sembra finita e per il Milan la completa rinascita e quindi bisogna essere più coerenti no non è rinascita stiamo parlando di un Inter che se vai a vedere i numeri comunque se prendi 5 gol in 5 partite e fai 7 punti in meno dovrà dire qualcosa questo andamento o no? ieri perde male e vedi un Inter in difficoltà poi ci chiedono ma Lautaro che non segna da tanti mesi che sta succedendo siete ancora convinti che l'Inter ha questa rosa così lunga e più forte di tutti? qui ci sono tante domande Stefano questa cosa qui Stefano che ne pensi della rosa lunga la più forte di tutti doppia squadra l'Inter resta alla squadra da battere quindi tu non hai dubbio su questo no ma dubbi siamo dobbiamo però ha ragione adesso io mi immagino che ne so a gennaio dicembre se vengono a mancare 3-4 giocatori in linea difensiva del mio o delle altre squadre come la mettiamo l'Inter ha chi può magari sostenere una certa competitività no lascia perdere gli errori che sono stati commessi in questo avvio sono d'accordo c'è un po' di tutto fai una partita da Leoni in Inghilterra con City magari stanno spostando l'attenzione adesso gli faccio due giocate Monza gli facciamo il gol lo facciamo insomma secondo me c'è un po' che si devono mettere in testa che se no non stanno sul pezzo ieri Ambrosini ha detto forse questi schiaffoni fanno bene cioè quando tu dici ti pensi di essere la più forte e quindi le partite ti puoi recuperare quando prendi uno schiaffone così ti potrebbe far bene se è che di questo avviso l'Inter è forte quando va a una certa velocità esatto poi si può discutere la ragione Fabio ieri ho avuto dei dubbi anche sulle mosse di Inzaghi ha svuotato un po' la mediana cioè gli ha consegnato il derby dice vabbè ma pure con loro il Milan Sommar aveva fatto due interventi si ho capito ma aspetta è un derby c'è l'anogulo c'è avrà balisticamente qualcosa in più c'è avrà un orgoglio c'è avrà una giocata da piazzare Barella pure magari anche se non sta brillando Mkhitaryan magari un qualcosa un pertugio un'imbucata la trova e invece ha cambiato tutto ha fatto crescere anche Reinders con quel cambio perché già stava giocando bene poi ha preso campo ha dato il destro ha dato proprio l'imbeccata definitiva al Milan che sembravano gli indiani assalto alla dirigenza insomma l'Inter non è sta roba qui poi grande merito a Fonseca il Milan è stato straordinario perché era quasi disperato il volto di Fonseca è tutto proprio un programma descrive questa barba in cuo è stato con occhi gonfi io sono contento da un punto di vista proprio sportivo che lui ce l'abbia fatta no perché ha sofferto ha sofferto ha rivendicato guardate voi avete detto che io ho cambiato strutture sistemi di gioco no io non ho cambiato niente però insomma qualcosa è cambiato lasciando gli occhi che ha fatto una differenza Stefano l'Inter gli sembrava tutto facile e la lampadina esatto non la puoi accendere improvvisamente però Reartù si devono risintonizzare perché altrimenti poi si si se no fai la fine del 2022 Santini Santini c'è il rischio magari di una eh dai sento di dare piena adesione a quello che ha scritto il radioascoltatore cioè quale ne hanno scritto non lette tante eh no quello che dice sai non si può andare avanti a prendere i parametri zero perché alla fine anche uno bravo come Marotta deve fare i conti con le galline questa è la vera verità vabbè Fabio ma non è che di parlamentare dell'Inter ma due squadre Fabio doveva prendere Gutmutzon e non l'ha preso ho capito adesso mi fai il tifoso Davide non l'ha preso Lautaro Taremi no ma non dici che ha due squadre eh devrai dietro Pavard solo che una è di categoria ma è vecchia Carlo Sagusto una è di categoria ma è vecchia Darmian sta invecchiando Mkhitaryan sta invecchiando e sapete che a quell'età spesso i giocatori crollano da un momento all'altro quindi non muo di ammire queste sono elementi di riflessioni che l'Inter deve fare vabbè Fabio però voglio dire adesso Zilinski Frattesi insomma adesso è molto forte nel buttarsi dentro ma non è un vero centrocampista per me il centrocampo più forte ce l'ha il Napoli quest'anno guarda che vi dico rispetto al lì Napoli è forte ragazzi è un grande allenatore che giochi in Italia e fuori sullo scudetto e vabbè aspetta c'era una cosa che stava dicendo anche di Napoli Arturo stavi aggiungendo una cosa? Sì nel senso che prima si parlava del centrocampo dei cambi non è che li ha cambiati con tre della primavera insomma e dai il giocatore è di assoluto spessore quindi se aumenta l'Inter del mercato è finita ragazzi e su dai non è di assoluto spessore non è da Inter dalla qualcun altro daremi in questo momento no aspetta Massimo sei anche tu di questo avviso a Taremi perché non è entrato eh no guarda Marco prima secondo me Stefano ha detto tutti hanno detto delle cose molto interessanti ma quella che mi avvicina al pensiero di Stefano cioè che se non riaccendi un po' la fame quella voglia di essere superiore perché l'Inter dell'anno scorso ricordatevi in campionato entrava sembravano affamati e la chiudevano nel primo tempo giocando con intensità con qualità e 2-0 3-0 e non c'era niente da fare per per le altre spalle Massimo lo sai che cosa ha smarrito l'Inter quel senso di ricerca che l'aveva fatta crescere e diventare una corazzata cioè mi spiego meglio dopo la 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 seconda stella tu devi fare tu dici sempre Marco pensa alla Champions League adesso devi difendere due palcoscenici da campione cioè se invece si fosse spostato dall'altra parte il pensiero che ha detto Massimo c'è tu questa voglia questa curiosità di dire io devo andare a prendere l'obiettivo l'obiettivo è ribissare lo scudetto perché sei più sei più forte degli altri e però devi stare sul pezzo e poi magari se invece fai dividi e dici ah no pensiamo a Champions per me fai un botto sia da una parte che dall'altra non te lo puoi permettere non lo so ma io parlo magari di una questione mentale di una questione che può essere più mentale non tanto di decisione non lo so vediamo vediamo se tu non ci metti quella voglia quella fame quella curiosità ma io posso andare oltre il mio limite poi Fabio ha ragione magari ci sono c'è gente un po' vecchiotta però insomma alla fine devi stare sul pezzo perché il campione italiano è tosto è difficile altra domanda che ci fanno Fonseca con questa vittoria ha diciamo così salvato o più che altro è riuscito un po' a stabilire un po' più di aderenza alla panchina che dite sì quindi siete d'accordo il rilancio clamoroso il rilancio che ti dà la vittoria in un derby non è quantificabile rispetto al rilancio di una vittoria contro altre squadre e l'ha proprio incartata la partita per sei volte consecutiva e vai a vincere dominando perché ieri sera il Milan nel secondo tempo ha dominato quindi Fonseca si è veramente creato il futuro qui adesso vediamo come lo gestirà vediamo Lecce vediamo Lecce Orlando sei d'accordo anche tu si è creato il futuro Fonseca con questa vittoria ha ingabbiato l'Inter e quindi adesso chi lo tocca più ha ragione ma ha ragione Arturo voglio dire ha ragione ma cioè secondo me era una sorpresa il Milan che era in ritardo che aveva giocato male contro praticamente tutte le altre squadre il Milan era solo da parte male da un punto di vista tattico perché non poteva giocare in quel modo scavalcato il dressing il Milan si trovava sempre in inferiorità numerica ieri ha messo una squadra in campo secondo me perfetta non dico che debba sempre giocare in questo modo però anche Capello che voglio dire non è l'ultimo arrivato ieri ha detto spero che Fonseca continui a giocare con le due punte perché sinceramente mi sembra che questo Milan sia fatto per giocare in questo modo ma non glielo dire però Massimo perché ieri ci ha detto che non è cambiato niente e se perdeva no come struttura ha detto Massimo non è cambiato niente non è cambiato niente ha messo Morata al posto chi è? faceva Love to Cicco Renders Morata ha fatto un lavoro credibile ha messo Gabbia al posto di Paolo ha fatto 4 2 3 1 secondo me la struttura non è cambiata voi state dicendo che è cambiato qualcosa invece non abbiamo visto qualcosa no 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 Pulise che rientrava Morata no 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 rientravano tutti c'è ragione molto intelligente Arturo sei d'accordo anche tu ha salvato la sua panchina adesso può lavorare eh? Arturo ma guarda i risultati nelle prossime partite diranno molto però certo che la vittoria nel derby non veniva da 7 anni fatta in maniera convincente che è questo bisogno bravo bisogna dirlo bisogna dirlo gli dà qualche jolly in più insomma qualche settimana in serenità però è chiaro che il Milan è una squadra che deve continuare a fare dei risultati non può accontentarsi solo di aver vinto il derby insomma Marco io pensavo al contrario invece cosa? che neanche la vittoria nel derby potesse salvare però vediamo ragazzi no però ieri ho visto ieri può essere hai visto una squadra proprio cambiata? beh sì io ho visto una squadra equilibrata una squadra tonica una squadra equilibrata una squadra che che leao hai visto Stefano? beh nel secondo tempo datemi un giudizio su Leao secondo tempo primo tempo assente aspetta vedi Santini primo tempo assente secondo tempo meglio che voto gli daresti? molto meglio che voto gli avresti dato? sei più sei più sei e mezzo la metà tu Santini niente non è piaciuto nemmeno ieri la metà ma dove? cioè ma veramente Stefano io che sono sempre d'accordo con te questa volta vabbè ma siamo qui a posto sento del tutto guarda è un giocatore che tiene in scacco il Milan e le sue mosse sul mercato il problema è che se gioca così perde continuamente di valore e non puoi neanche lasciarlo andar via e venderlo quantificare una cifra ma è un giocatore che in questo momento così al Milan non serve attenzione Leao non serve Orlando certo voglio dire sì anche il secondo tempo quando ha fatto bene c'è questi spunti poi arriva lì non è un uomo gol e questo va a pesare un po' sul giudizio io continuo tu lo sai a scommettere su questo ragazzo perché avresti avuto la metà delle sue potenzialità fisiche mi sarei sentito un superman io ancora io ancora ci spero su questo ragazzo certo passa il tempo e anche gli anni però insomma un Milan quadrato se tutto comincia a girare e arrivano i risultati entusiasmo e tutto secondo me potrebbe ancora essere un giocatore devastante quindi tu salvi Leao Arturo di Napoli guarda io ti dico una cosa buon giocatore sì è un buon giocatore perché è un giocatore che ha degli spunti molto interessanti player no perché è discontinuo ma è un gioco solo in queste accelerate è un ragazzo che ha sicuramente tante qualità ma anch'io ne avevo tante però non sono riuscito ad arrivare in nazionale non sono riuscito ad arrivare perché hai delle lacune lui secondo me ha delle lacune Arturo all'epoca che giocavi tu e anche Massimo c'erano 25 fenomeni c'erano in giro beh certo anche quello adesso non è che mi sembra che ci siano questi fenomeni se noi diciamo che lui è un fenomeno secondo me è un buon giocatore però pensa di essere lui forse lui pensa di essere un fenomeno questo è un po' io credo che sia questo il vero problema è questo lui è un buon giocatore che quando ha la giocata può fare la differenza però non è un fenomeno quindi io non lo so credo che sia Orlando è innamorato perso io sono d'accordo con Massimo Orlando è innamorato perso questo giocatore destro sinistro colpo di testa velocità ha ragione Superman però ieri lo salvo io ieri a differenza di Santini che gli darebbe tre e mezzo io invece ieri ho dato anch'io sei più sei e mezzo in pagella ci può stare nel secondo tempo è cresciuto un po' pochino sì tu sei proprio severissimo però non serve così a questo Milan invece Fabio perdonami scusami rompo un po' gli equilibri ma di Lautaro cosa mi dici come Lautaro non segna cosa sta succedendo Lautaro è stato costretto a interrompere il suo riposo estivo a tornare prima una preparazione approssimativa su di lui pesa ovviamente la pressione di essere il più pagato credo dopo Blauvic lì si vede dei risultati in Italia evidentemente c'è questa cosa poi diciamolo statisticamente Lautaro ha sempre avuto un periodo di blackout certo ce l'aveva primavera adesso ce l'ha inizio campionato speriamo che con un adeguato come dire recupero delle proprie forze torni a essere quel giocatore che conosciamo ieri l'ho visto anche che si è caricato di tante responsabilità fine partita forse troppe secondo me grazie a tutti grazie a tutti